Agiva ormai da tempo tra Asti, Alessandria e Alba. Valentin Popescu, rumeno di 37 anni senza fissa dimora, latitante e ricercato dalla procura di Ancona, aveva messo in atto due tecniche per prelevare denaro dai conti correnti di sfortunati utilizzatori di Bancomat. In alcuni casi utilizzava lo skimmer, un lettore ottico che gli avrebbe permesso di clonare le carte. In altri, introduceva all'interno della bocchetta dello sportello automatico una forcella metallica che non lasciava fuori uscire i contanti prelevati. Così avrebbe agito su 20 banco, ma te avrebbe raccimolato circa 20.000 euro. Ma durante la sua ultima azione nei pressi di corso Alessandria, in uno degli sportelli automatici della cassa di risparmio di Asti, è stato beccato. I carabinieri della compagnia astigiana però continuano ad indagare sul fenomeno, nel quale sarebbero coinvolte altre persone, come sottolinea il tenente Alberto degli effetti, comandante della compagnia dei carabinieri di Asti, neopromosso a Capitano. È stata un'operazione fondamentale condotta dal nucleo operativo di Asti perché ha permesso di scoprire circa una ventina di episodi in cui dei clienti, andando a prelevare del denaro presso i sportelli Bancomat, da un lato vedevano clonarsi le proprie carte Bancomat, dall'altro vedevano immediatamente sottrarsi del denaro. È stata fondamentale la collaborazione con la cassa di risparmio di Asti perché tramite il loro ausilio, tramite i video che ci hanno fornito, è stato possibile ricostruire il modus operandi di questo soggetto, Popesco Valentini, classe 76. In particolare nelle prime ore del mattino si operava per inserire queste apparecchiature nei vari sportelli Bancomat, mentre nelle ore pomeridiane si recava presso gli stessi sportelli per prelevare da un lato gli apparecchi skimmer e dall'altro le forcelle meccaniche.